I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza sono stati impegnati nel soccorrere due persone nel comune di Missanello in provincia di Potenza. I vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Villa d'Agri si sono portati sulle sponde del fiume Agri per recuperare due persone, un uomo e una donna, che colta dalla piene del fiume causata dall'apertura delle paratie sulla diga del Pertusillo, si sono rifugiate sull'argine più vicino a loro. Dalla sede centrale di Potenza sono intervenute sei unità del nucleo SAF, speleo alpino fluviale, con assetto alluvionale e con gommone che, giunti sul posto, provvedevano a trarre in salvo le persone in difficoltà che risultavano in buona salute e che non necessitavano di controlli sanitari. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa, due fuoristrada ed un gommone per un totale di 11 unità, sul posto anche i carabinieri ed il sindaco di Missanello.